La palla a canestro Pistoia in casa è un'avversaria temibile. Gli abbonati hanno risposto presente, magari in maniera inferiore rispetto allo scorso anno, ma giocare sul campo della Deflex è sempre impegnativo. Servirà un'impresa per la formazione di coach Stefano Sacripanti, perché la compagina di Esposito sul parchi amico ha tanti assi nella manica. Murre il faro, McGee e Bond ottimi attaccanti. Nella prima clip il protagonista è l'ex Venezia, McGee, il quale gioca da bloccante un pick and roll con Murre, poi prende il blocco in allontanamento di Daniele Magro, per costruire un buon tiro da lunga distanza. Nella seconda clip, bella rimessa costruita per Bond, il lungo blocco a personale, il Giorgiano prende a sua volta il blocco di Magro, per ricevere così in angolo, mentre McGee blocca Jacob Meadburn permettendo a Bond di ricevere in aria. Situazione di double drag nella terza situazione esaminata. Gaspardo si apre sul perimetro, mentre Kennedy corre al ferro. La difesa di Cremona è rivedibile sia quella sul pick and roll che sul lato di bole ed arrivano così punti facili.